Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube, vedete una location abbastanza scura, visto che sto registrando questo video che sono le 3 e 22 e se non parlo così e se non avessi le luci spente, mio padre potrebbe alzarsi a tirarmi delle martellate sulle gengive, oltre che mia sorella potrebbe colpirmi alle spalle, quindi sto abbastanza attento a mantenere un tono di voce abbastanza contenuto. Ormai FIFA è uscito per la stragrande maggioranza di noi, per quelli che hanno preso Ultimate e Champions Edition, mentre per quelli che hanno preso la standard ancora qualche giorno d'attesa fino al 9 e oggi dunque ho deciso di portarvi un video che spero possa esservi utile, in quanto andiamo ad analizzare quelle che secondo me sono le 10 carte migliori al prezzo di 10k o più basso, Quindi carte che comunque hanno un prezzo abbastanza contenuto, ma che nonostante questo rendono secondo me alla grande in game e quindi potete andare a inserire nelle vostre squadrette iniziali. Quindi con un rapidissimo cambio di scena passiamo su Footbin e come potete vedere la prima carta con intenzione di andare ad analizzare è Alex Telles, un terzino che ovviamente non scopriamo quest'anno, 84 di overhaul, 9800 su Play e anche su Xbox. Ovviamente quest'anno avete visto da queste prime battute come la velocità sia molto importante e Telles è un terzino che sicuramente non pecca in questo attributo, di fatti ha 85, ha anche degli ottimi passaggi, sia il corto che il lungo fondamentali, in quanto i filtranti per innescare gli esterni sono assolutamente molto molto cruciali in queste prime fasi di meta. Ottima anche la statistica per quanto riguarda la defensive awareness, che dunque gli permette di poter andare a compiere degli interventi automatici e anche coprire gli spazi in maniera automatica, buone statistiche di stamina, aggressività, anche ball control, dribbling, insomma un terzino a tutto tondo, che vi dà anche la possibilità di poter sperimentare dei link interessanti innanzitutto perché questo vi linka Militao, vi linka Neymar, Felipe Anderson in un lupetico 451, ma poi Telles a breve riceverà l'aggiornamento nella sua versione Manchester United perché di fatti approda in Premier League, di conseguenza aprendo spiragli a ulteriori link, quindi potete metterlo vicino ad un Virgil, linkare sopra un Manet, quindi tanti link per le vostre squadre con l'approdo di Telles in Premier League ad un prezzo secondo me abbastanza contenuto. E rimanendo sempre in ambito di Premier League, un'altra carta secondo me molto interessante è quella di Tomori, 5800 su Play, 7400 su Xbox, caso raro perché di solito su Play sono più alti rispetto a Xbox, ma siamo comunque nelle battute iniziali, e come vi dicevo quest'anno la velocità è importante anche per i difensori centrali, e Tomori ha 80 di velocità, con 83 di velocità scatto e 76 di accelerazione, quindi tanta roba, e lo va ad unire con un'ottima forza, 78, 1,85 di giocatore per 78 di peso, non è neanche troppo macchinoso, ha 73 di agilità, per esempio varanno a 62, i passaggi magari sono un po' così e così, però il corto comunque è quello che per un difensore centrale conta di più, è 75, è anche discreto, le statistiche difensive poi sono più che accettabili per il prezzo della carta, e il buon Tomori vi dà la possibilità di avere uno strong link con il buon Gio Gomez ad esempio, potreste linkare in porta anche Pop che è un buon portiere buggato di inizio game, e secondo me Tomori al momento si pone nella top 3 di difensori della Premier League assieme a Virgil e proprio a Gio Gomez, e per questo prezzo è secondo me tanta tanta roba. Passiamo invece a quello che è un campionato che quest'anno ha ricevuto un sacco di carte che lo rendono veramente tanto appetibile, e sto parlando della Bundesliga, e la prima carta che andiamo a vedere è quella di Conrad Leimer, un centrocampista veramente incredibile, e che diciamo è una sorta di cantè della Bundesliga, di fatti vediamo che ha addirittura 85 di velocità, tantissima roba, statistiche di passaggio corto ottima, anche quella di passaggio lungo non male, buone statistiche difensive e anche di intercettazione, ottima aggressività e stamina, gli attributi del dribbling quelli che ci interessano sono quelli in merito all'agilità che 76 non è male, e devo dire che per 5000 crediti, prezzo più o meno identico su entrambe le console, è veramente ottimo. L'unico problema di Leimer è che ovviamente, a meno che non abbiate appunto una Bundesliga, o abbiate delle Icon, ma ovviamente se avete le Icon e non ci andate a linkare Leimer, è difficile andarla a utilizzare visto che è austriaco, però io come squadra iniziale la Bundesliga ve la consiglio caldamente perché ci sono tantissime carte valide, e alcune le continueremo a vedere anche all'interno di questo video. Di fatti, rimanendo in ambito Bundesliga, passiamo a quella che è un'altra carta del reparto del centrocampo, che è quella di Thomas Delaney, che costa addirittura 2007-2009, quindi ancora meno, si tratta di un giocatore con 3 di skill e 4 di piede debole, 1,82 per 79 kg, e anche lui un giocatore molto completo, di fatti abbiamo un 77 sia di accelerazione che di velocità, comunque per inizio game una carta base lo rendono sicuramente molto valido, 80 di reazione e 73 di agilità, ottime le statistiche difensive, guardate qui tutte in verde, ottima l'aggressività, 90 la stamica, 91 il jumping, quindi questo qui è un mastino del centrocampo, soprattutto queste statistiche difensive qui permettono di compiere tanti interventi automatici, di ritrovarsi sempre al posto giusto, al momento giusto, visto che come sapete la defensive awareness praticamente quest'anno contribuisce a quella che è l'attitudine dei giocatori di fare il movimento giusto, sia in fase offensiva che in fase di copertura. E invece traslando un attimo, cambiando regione, passiamo alla Liga dove abbiamo il sempreverde Renato Sanchez, 4-4, 1,76 m, 4.000 crediti per lui, diciamo anche qui il chip cante della Liga, ottima la velocità, ottime le statistiche di dribbling, un 76 di agilità, 89 di equilibrio, ottimo controllo palle e dribbling, statistiche difensive che in questo caso sono sì buone, però pecca per quanto riguarda lo sliding tackle, che sarebbe praticamente la scivolata, però ovviamente per un giocatore del genere non è più di tanto un problema. Abbiamo anche un 84 shot power e 77 long shot che ci potrebbero anche suggerire di poterlo utilizzare come mezzala volendo in un ipotetico rombo e abbiamo poi ottime statistiche di fisico con 87 di stamina, 84 di aggressività, nonché 77 di forza che dunque gli consentono sicuramente di rimanere attaccato agli avversari e di sradicare il pallone con maestria. Anche qui il discorso link è un po' particolare perché questo magari vi potrebbe anche linkare Ronaldo, linka Neymar e Mbappé, però appunto è difficile a meno che non andate ad utilizzare un'ibrida linkarlo per prezzi bassi. Tornando indietro alla Bundesliga, un altro giocatore super interessante è Marcel Sabitzer, 6200 su play, 7900 su Xbox, guardate qui, quasi tutte le statistiche all'80, tranne la difesa, 3-4, 1,78 per 76 kg, buone le statistiche difensive, ottime le statistiche di tiro che lo rendono assolutamente valido per quanto riguarda il ruolo di CC, meno di quello di COC, per quanto riguarda le 3 stelle skill e soprattutto il 75 di agilità, ottime le statistiche di passaggio sia il corto che il lungo, appunto per quanto riguarda il dribbling è peccato l'agilità perché per quanto riguarda equilibrio, reaction, ball control e composure ci siamo pienamente. Statistiche difensive che ovviamente peccano un po' in quanto è un giocatore magari con una propensione un po' più offensiva e per quanto riguarda invece statistiche di fisico abbiamo un'ottima stamina, strength, ossia la forza e l'aggressività, un po' meno ma comunque ottime statistiche. Anche qui Sabitzer a meno che non andate ad utilizzare una Bundesliga è difficile da linkare ma nel caso appunto decidiate di partire con una squadra di questo campionato secondo me lui è una di quelle carte che non può mancare in quanto ti permette di poter variare da un modulo all'altro. Un'altra carta che secondo me è uscita un po' dai radar visto che è andata oltre l'oceano è quella di Blazmite 2D che si trova nel campionato LMLS, rega ma questo qua stranamente ha mantenuto degli attributi molto validi e per 4.000 credit e 5.000 su Xbox andandolo a linkare in mezzo a dei francesi secondo me da CDC può fare il suo di fatti 75 di velocità poi 83 di agilità e 81 di reazioni nonché 82 di freddezza peccato per le statistiche di tiro ovviamente sicuramente non può fare la mezzala per quanto riguarda poi invece le statistiche difensive sono assolutamente top per quanto riguarda inizio game così come lo sono quelle del fisico con 86 di aggressività 85 di stamina, un po' meno la forza ma ovviamente è un giocatore un po' mingerlino dal punto di vista fisico ottimo il passaggio corto, un po' meno quello lungo ma 2D a questo prezzo se avete la possibilità di linkarlo tra carte francesi secondo me può dire tranquillamente la sua e passando da un emisfero all'altro passiamo a quello che è Alex Teixeira ossia giocatore brasiliano del Jansu con 4-4 e questa è una gran carta raga per 4000 crediti praticamente vi portate a caso un giocatore super veloce ossia pienamente in meta al momento con un buon posizionamento statistiche di tiro che vabbè sono un po' quelle che sono ma stiamo parlando di una carta da 5000 crediti inizio game 91 di agilità addirittura 82 freddezze 80 dribbling sono veramente tanta roba addirittura 87 di stamina io questo qui l'ho provato in un draft ed è mi veramente piaciuto quindi se avete la possibilità di poterlo linkare all'interno delle vostre squadre iniziali magari anche con Paulinho, Talisca eccetera che sono carte molto molto valide secondo me ci fate un grandissimo affare parlando di affari non posso non citarvi quello che è il buon Quincy Promise 5-4 quindi fondamentali le 5 skill quest'anno l'abbiamo visto ormai 5000 su play e 5000 e 4 su Xbox carta super veloce, super agile guardate qui le statistiche di dribbling 85 di agilità, 81 dribbling, 83 di composure eccetera buone anche le statistiche di tiro peccato per quelle che sono i long shot magari però 82 di potenza tiro e 81 di finalizzazione non sono assolutamente male per quanto riguarda i statisti di passaggio quelle lunghe un po' da rivedere per quanto riguarda i corti ci posso anche stare la stamina è 82 vi dirò promise anche qui il discorso è quello legato all'ibridabilità ma magari se ci mettete un banded back se ci mettete un day ong anche se saliamo di prezzo questo qua può essere tranquillamente utilizzato e dire la sua magari anche da super sub volendo perché no ultima carta che vi voglio far vedere è quella di Milot Rashica 3003 su entrambe le console 4-4 un piccolo diavoletto raga si trova in Bundesliga guardate qua super veloce, super agile ottime le statistiche di tiro un po' meno quelle del passaggio e del fisico ma per quello che costa raga questo qua secondo me ha tutte le carte regola per essere l'attaccante starter dei vostri sogni in quanto ad essere veloce è veloce ad essere agile è agile a finalizzare, finalizza ovviamente non vi aspettate la finalizzazione di Ronaldo ma è una carta da 3000 crediti e secondo me per poter farmare le prime partite iniziali secondo me può dire tranquillamente la sua quindi raga per questo video fondamentalmente è tutto io lo stacco, lo termino qui onde evitare delle rappresaglie notturne in famiglia Ribera vi saluto, vi do appuntamento ogni giorno in streaming dalle 10 e fatemi sapere se questo format vi può interessare magari portiamo poi in avanti quelle che sono carte anche su budget su budget differenti e nulla raga io vi ricordo di mettere un mi piace che come bravi youtuber serve sempre e nulla per il resto vi saluto vi do appuntamento qui a un prossimo video e su Twitch ad una prossima live peace ciao